di cuore le giocatrici e la società per l'opportunità che mi hanno dato ma per un motivo molto semplice perché è stato molto semplice inserirsi in un ambiente in un gruppo di altissima professionalità sulla partita siamo stati noi più continui dell'arco di tutta la partita le ragazze hanno messo in campo una grande determinazione, una grande lucidità pur soffrendo in alcuni tratti sono riuscite a rimanere concentrate e molto determinate per tutto l'incontro alla fine hai avuto un'esultanza moderata nel senso che sei andato subito ad abbracciare lo staff di Villa era una partita particolare come l'hai vissuta fate voi